Purtroppo è vero, Sofia Loren operata d'urgenza. Prima di iniziare questa incredibile storia, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche facendo clic sulla campanella. Ciao a tutti gli appassionati di Amica Gossip. Siamo davvero felici di vedervi ancora una volta qui nel nostro angolo di chiacchiere su notizie e gossip. E ora, senza ulteriori indugi, lasciatevi coinvolgere da questo incredibile racconto. Oggi condividiamo un aggiornamento rapido sulla nostra iconica Sofia Loren. Sofia Loren, la leggendaria attrice, ha compiuto 89 anni da poco, ma un incidente domestico l'ha costretta a un'operazione d'urgenza. Il 24 settembre ha subito una caduta che ha causato fratture all'anca. È stata, quindi, operata d'urgenza e l'operazione è andata bene, e ora sta riposando prima della riabilitazione. Buone notizie sulle sue condizioni. Gli impegni futuri sono stati annullati, inclusa la cittadinanza onoraria a Bari e l'inaugurazione di un ristorante a lei dedicato. Sofia è supportata dai figli Edoardo e Carlo durante il recupero. I fan hanno mostrato affetto e sostegno sui social media. Quale film ricordate che vi è piaciuto maggiormente di Sofia Loren? Condividete le vostre opinioni nei commenti e rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti sulla salute di Sofia Loren. Grazie per la visione, ci vediamo presto.